Roberto Alipari si presenta al grande pubblico come un attore comico, garbato e intelligente, che in poco tempo è riuscito a ottenere un buon seguito di ammiratori che lo hanno apprezzato di recente nella conduzione del TG satirico più conosciuto d'Italia, Striscia la Notizia. Con i suoi filmati umoristici, progettati e realizzati ad hoc, acquistato popolarità e i suoi video sono largamente condivisi nel mondo del web tramite i social network. Nel suo spettacolo Non ce n'è comico, prodotto da Trump Management, scritto insieme a Roberto Tanelli e Ignazio Rosato, ritrae personaggi e ambienti reali e attuali, descritti in toni che vanno dalla pacata ironia alla denuncia sociale sui temi più caldi quali la famiglia, il futuro dei giovani, la politica, il lavoro. Battute, poesia, satira segneranno un percorso di riflessione, non solo sul momento che stiamo vivendo ma anche sui paradossi di una nazione e di una regione, la Sicilia, ricca di spunti comici. Sei le date degli spettacoli estivi di Roberto Lipari in Sicilia. Il 23 luglio a Triscina, Sellinunte, in provincia di Trapani, al Teatro Franco, Franchi e Ciccio in Grassia. Il 24 luglio a Terrasini, provincia di Palermo, all'Anfiteatro Villa Ammare. Il 26 luglio a Catania, Villa Bellini. Il 27 luglio a Grigento, Tempio di Giunone. Il 30 luglio a Donna Fugata, provincia di Ragusa, al Castello. Il 31 luglio a Noto, a Siracusa, Cortile Collegio dei Gesuiti. Sì, è uno spettacolo che è nato nel 2020 e con questa tornata del 2022 si dovrebbe chiudere il ciclo di questo spettacolo, anche perché è nato, ho scritto mentre eravamo in pandemia, ovviamente lo spettacolo è mutato col tempo perché è cambiato il mondo, però quello che volevo dire con lo spettacolo è rimasto, il principio su cui si fonda tutto è su una frase di Andrè che dice che dai diamanti non nasce niente, dall'età me nascono i fiori. E quindi, proprio perché è nato durante un periodo terribile, proprio l'etame degli ultimi due anni, che è il 2020, ho cercato di trasformarlo in concime e fare una scena non ce ne come. Questa è l'ultima tournée, è tutto concentrato nell'ultimo periodo di luglio e perché poi devo mettere lo spazio perché quest'anno diciamo che l'obiettivo principale è il secondo film e quindi però non volevo lasciare il palco perché il palco è il luogo in cui sono più felice forse nel mondo e quindi non potevo starne senza. E questa è chiusura di Non ce n'è comico, sarà bello farla col pubblico e soprattutto spero quest'anno di poter fare tutte quelle foto che negli ultimi due anni per legge non potevo fare, quindi cercherò di recuperare due anni di selfie. Dopo il grande successo di Tutto a Posto, appunto, sei pronto per un nuovo lungometraggio. Dove sarà girato e se possibile, insomma, qualche anticipazione su quello che vedrà il pubblico? Allora, dove sarà girato non lo so, anticipazioni non ne faccio anche perché dobbiamo capire tutta la mano. Ancora è una fase, non dico embrionale, però è appena nato, quindi diamo i dopo di tempo. Poi a tempo debito dirò tutto, però io sono molto contento perché il mondo del cinema è un mondo affascinante, in cui ho avuto la fortuna di entrare e in cui devo imparare tanto.